E' buono, e' buono, e' buono! Controlla Holloway, che va a schiacciare! Elliot la recupera, vada Williams, bravissimo Williams a servire con un dive, vai Elliot, che vada a affondare la bimane. Contro probabilmente, sarà Blizzard incaricato, infatti è proprio lui a ricevere il pallone a tirare, manda a bersaglio un canestro di una difficoltà assurda, nullo, nullo serve bene Vosikovsky, dall'altra parte grande giocata sull'asse Tommasini-Fold, De Nicolaou, pesca benissimo Moreau, grandissima giocata qui, sull'asse De Nicolaou-Moreau. Palla recuperata, e Miller fa una cosa straordinaria. La Leiuuuuup, mamma mia! La Leiuuuup, pazzesco! La Leiuuuup! La Leiuuuup!